ciao ragazzi quando sono online battete un colpo ciao steffi amore mio sempre alla prima puffi ciao amore puffi rimani perché c'è cosa di puccioso che tu devi vedere assolutamente ciao gio come stai ciao gabri ciao ragazzi siamo già in 10 vai subito di like ragazzi come entrate subito 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 di like perché ho un sorpresone super colorato da farvi vedere colorato quasi come il nora che accompagna il mio sfondo ciao nicoletta lady ciao buonasera magic frank tante grazie per il like la regina del tubo jovi quere l'altra lo sai già per diritti di ma senza anima perché non sei moderatrice qua forse sei moderatrice con l'altro canale entra dall'altro account che sei moderatrice con senza anima 2 forse dicevo jovi sei correlata perché tu la regina del tubo no ma che nuova iscritta no 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 jovi questo nico non ci piace la regina queen ce n'è una sola anche se so che il nick l'hai messo in il suo onore ciao meri grazie buonasera anche a te però però da queen ce n'è una sola quindi ce n'è una sola facciamo entrare ancora un po di gente ciao love l'amore ha visto che mi ha appena mandato un messaggio seretta ma stavo entrando in live e lo ascolterò più tardi perché è un vocale a se lei di esattamente cioè video sport vice il baffo è tornato il baffo è tornato però per farvi vedere raga veramente questa volta una cosa carinissima perché oggi è arrivato un bellissimo pacco un bellissimo pacco che stavo aspettando mi è arrivato devo dire in fretta anche più in fretta del previsto perché nonostante provenga dalla francia mi è arrivato in cinque giorni lavorativi quindi tramite corriere mi è arrivato davvero immediatamente con tanto di tracking ma adesso vi farò vedere di che cosa sto parlando aspettiamo di arrivare in 50 43 ciao saletta senza anima neanche quasi moderatrice non capisco perché però ciao alessandra tante grazie tante grazie finalmente laura ci becchiamo tante grazie anche a te per essere qui bacione e laura e lo sole di che sei curiosa dicevo è un pacco che arriva dalla francia ed è un pacco come vedete qua anche se non è bene a fuoco e come vedete per l'appunto dal pacco ciao antonella ciantonellona un pacco di merci caldi una azienda per l'appunto francese un pacco che adesso vediamo insieme qual è il suo contenuto franci ti prometto che ti metto moderatrice appena posso allora innanzitutto ragazzi questa azienda nasce a parigi nel 2014 quindi un'azienda direi nuova per opera di roland e lui la qualità è stata appunto quella di creare delle profumazioni ispirate diciamo ai colori dell'arcobaleno e soprattutto a delle profumazioni naturali e veramente veramente uniche ciao candy un bacione grandissimo dicevo profumazioni tra le più svariate adatte alla quotidianità quindi adatte per tutti i giorni sia per diciamo le donne anzi prevalentemente per voi per il suo packaging come vedrete molto colorato ma adatto anche a noi maschietti perché ragazzi come ben sapete ormai niente ha più sesso nel senso che ormai tutto è assolutamente unisex mamma emanuela un bacione anche a te ciao mena ciao beatrice ciao un bacione quindi ragazzi l'azienda vi dicevo ciao corallina mi ha mandato questo pacco adesso vi faccio vedere che cosa contiene allora innanzitutto all'interno del pacco trovate questa bustina carinissima questa bustina contiene esattamente 30 millilitri d'amore per otto confezioni ed è la confezione rainbow tifo qua sotto ragazzi nell'info box trovate in descrizione tutto per quanto riguarda questi prodotti ma adesso vi faccio vedere in che cosa consistono allora ragazze sono dei gel per le mani dei gel disinfettanti come vedete che riprendono tutti i colori dell'arcobaleno quindi qua abbiamo il rosa qua abbiamo il color più rosa antico abbiamo poi un verde lime abbiamo poi l'azzurro cielo l'azzurro mare di sardegna abbiamo poi il color proprio ciliegia che denota la sua fragranza abbiamo anche il color giallo orange e poi infine abbiamo il color caramello e il color oceano per l'appunto le profumazioni poi derivano dal colore ad esempio questa è la black vaniglia e sta per l'appunto di vaniglia questa per l'appunto che ha un colore tendente al caramello mentre abbiamo la new wave che invece riprende quello che dovrebbe essere la fragranza d'oceano abbiamo poi la hello sunshine che ha una profumazione che è più per come boccete per la tinteggiatura del muro sono piccolissime ragazzi guardate rispetto alla mia mano sono piccolissime come per tinteggiare il muro franci mi dicevo tendenti all'aranciato poi quella alla ciliegia che per l'appunto si chiama sherry sherry quella violetta che appunto alla profumazione invece dei fiori certo giovani che la salvo un bacione anche a te grazie per essere passato poi abbiamo invece quella turchese che è la cocorico che per l'appunto riprende il la fragranza del cocco poi questa color lime che invece al colore di limone e questa sul rosa antico lollipop che è appunto la fragranza della caramella vedi sabri si sono pieno di braccialetti veramente tantissimi questo è della squadra di calcio nella mia città questo è un regalo di seforina questo e questo e questo sono dei bracciali che aveva mio papà prima di morire quindi diciamo che ognuno ha una sua una sua storia sì però anche loro assolutamente tutti colorati quindi ragazzi è veramente 30 ml ognuno gelmani che appunto riprendono i come vedete i colori dell'arcobaleno e sono da portare sempre con voi quindi sono utilissimi anche grazie a questo che la massi andy vi manda ovvero il porta gel che viene mandato in regalo come vedete lo faccio vedere è in gomma riprende per l'appunto la forma della boccetta si inserisce e come vedete può essere soprattutto per noi maschietti che non abbiamo la borsetta utilizzato anche certo e qua sotto antonella e qua sotto grazie stefi sì ma il cappellino lo uso ragazzi non far vedere le stempiature per far finta di essere giovane almeno la sera perché di giorno lavoro non posso quindi dicevo per noi maschietti questo può essere attaccato ai pantaloni oppure può essere utilizzato questo stesso anche come porta chiavi allo stesso tempo avere a portata di mano questo gel detergente per le mani ragazzi ne basta veramente ne basta veramente ma proprio una noce nella mano per detergerla per dare alle vostre mani un senso di preschezza proprio di profumazione enormi nessuno di questi prodotti ragazzi cosa molto importante è testato su animali e soprattutto sono innocui per l'ambiente questo è molto importante ragazzi è già qui sotto in descrizione sia il sito ufficiale della merci e di sia tutti i social dell'azienda quindi ciao vita mia un bacio amore mio quindi per l'appunto il sito facebook piuttosto che il profilo instagram e anche il canale youtube perché l'azienda anche un canale youtube oltretutto ragazzi altra cosa pucciosissima che mi è stata inviata dalla merci e di è questo è questo come vedete questo ragazzi è la confezione edizione limitata della disney quindi certo polino c'è minni c'è paperino c'è paperina c'è pippo e c'è anche pluto siete al top ragazzi questa veramente è carinissima ed è adatta esatto grazie lady per il link che stai spammando è adatta proprio anche e soprattutto per i bambini che come sapete sono diciamo i più resti diciamo nell'igienizzazione delle mani e quindi diciamo stimolandoli con questi pupazzetti sicuramente sono più invogliati nel diciamo utilizzare questi gel disinfettanti si sono anche questi cioè disinfettanti che si trovano per l'appunto all'interno di questa pochette come vedete sono anche loro dei gel disinfettanti solo che anziché il marchio mercy handy hanno proprio i personaggi della disney le fragranze poi questa volta però sono sei anziché otto poi questa la potete utilizzare questa pochette che come vedete dietro ha anche la testa di topolino o di mini riprendono le stesse fragranze per l'appunto di quelli che vi ho fatto vedere prima solo che sono sei anziché otto sono sei anziché otto questa è un'edizione limitata e allora topolino ha il black vaniglia come profumazione mini invece ha la ciliegia paperino profumo d'oceano paperina il profumo di fiori pippo il profumo di limoni invece pluto sa di caramello quindi riprendono proprio le profumazioni dei gel che abbiamo visto prima allora questo set con edizione limitata pensate ragazze costa solo 14 e 90 solo 14 e 90 mentre la confezione con 8 gel sempre da 30 ml per quanto concerne sia il cofanetto della disney che per gli altri 8 confezioni invece a 22 euro con il regalo anche il porta gel in modo tale che anche i maschietti possano portarlo a presso o anche le femminucce però voglio dire un modo pratico per averlo sempre non scordarlo mai magari come vi ho suggerito prima mettendo per l'appunto diciamo le chiavi veramente ragazzi sono dei prodotti di grande qualità poi la merci e di anche nel packaging è veramente molto carina manda il ringraziamento a tutti i suoi clienti quindi anche ovviamente tutto ciò che possono essere anche degli adesivi o dei piccoli gadget come quello che ho attaccato adesso nella maglietta e in più a tutti anche la lettera di ringraziamento con tutto l'ordine sia per quanto riguarda appunto gli otto gel sia per quanto riguarda anche l'edizione limitata della disney ragazzi veramente veramente hanno una fragranza ottima che come avete visto ne ho messo una semplice noce nelle mani è veramente sento ancora una fragranza aspetto e senza anima perché sta ridendo cosa state dicendo alle mie spalle perché tanto so che poi dovrò andare a rileggere e sicuramente tra profumazioni e quant'altro state dicendo tu a gabrile delle porcate allucinanti ciao la clamore mio però vi dicevo gabrile vuoi cospargere di maxi andy maxi andy ragazzi veramente vi dicevo hanno ne ho messo una noca e hanno delle profumazioni a parte forti ma nel senso che rimangono non forti fastidiose quindi veramente veramente le consiglio perché naturalmente oltre alla fragranza oltre al packaging super carino naturalmente non dimentichiamo la loro funzione primaria che è quella di detergere e soprattutto di igienizzare le nostre maniche come ben sappiamo diciamo che è l'organo che più sta a contatto con i batteri e pertanto è anche l'organo che porta più infezioni che in qualche modo dovrebbe stare diciamo per la maggior parte del tempo il più possibile igienizzato invece ovviamente non sempre capita soprattutto quando sia fuori casa di potersi lavare le mani o comunque di avere dell'acqua a portata di mano pertanto io penso che veramente ciao sarà magic un bacione grande grazie per essere qui penso che veramente ragazzi siano di grandissima qualità oltre che veramente anche molto ma molto 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 carini da vedere e soprattutto ve lo faccio rivedere è carinissima anche l'edizione limitata della disney veramente 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 carini anche da vedere e soprattutto come vi ho detto utilissimi per i vostri bambini inoltre ragazzi e ragazze soprattutto se andate nel link della merci andy che appunto trovate qui sotto nell'info box potrete constatare voi stesse che oltre a questi gel detergenti tra le mani quindi oltre per l'appunto alle mani questa azienda francese si occupa anche di bocca di viso di capelli di candele e vengono fatte proprio anche nelle confezioni diciamo per poter provare tutti i prodotti insieme bravissima laura proprio ora che inizia la scuola per i bambini questa confezione è davvero il top ciao mena un bacione grandissimo grazie per essere stata qui vi dicevo è proprio il top ora che inizia la scuola perché secondo me invoglia diciamo il bambino già avendo per l'appunto questi personaggi ovviamente alcuni per i maschietti altre per le femminucce sicuramente diciamo l'invoglia per quanto riguarda l'igienizzazione delle maniche soprattutto per i bambini e soprattutto a scuola è una cosa veramente veramente fondamentale per evitare tutto ciò che ovviamente sono le diverse malattie dell'infanzia che si prendono proprio soprattutto per la maggior parte a scuola quindi ragazzi io vi invito assolutamente a visitare sia il gruppo facebook grazie lady della merci andy sia naturalmente il sito il canale youtube nel quale trovate anche diverse recensioni e poi mi raccomando visitate anche il profilo instagram che è veramente coloratissimo e ci sono delle foto veramente 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 bellissime e soprattutto ragazze mi raccomando acquistate questi prodotti ciao santrin tesoro mio ciao buonasera anche a te perché veramente ne vale la pena anche per un regalo perché sicuramente può essere un regalo particolare che le femminucce apprezzeranno sicuramente oltre che per l'appunto come abbiamo detto un regalo utilissimo veramente veramente utilissimo e coloratissimo il che ovviamente non fa che aumentare diciamo il nostro buon umore anche quando si fanno delle cose quotidiane per l'appunto come rigenizzarsi le mani che cosa mi dite poi ragazzi ciao amore ciao geni amore mio un bacione grande siete tutte mamme stra impegnate qua ragazze fa ancora un caldo ciao aprilio amore mio qua fa ancora ragazze un caldo veramente allucinante ci sono stati giorni dove il bel tempo è venuto a mancare adesso siamo ritornati con i 40 gradi e quando si ritorna contemporaneamente a lavoro diciamo che non è proprio il massimo antonella anche da te diciamo che il caldo è tornato un po è tornato un po in tutta italia per questo non si smette di andare al mare almeno il fine settimana quindi da domani ragazzi che la possibilità va dal mare questi sono veramente ragazzi favolosissimi per quanto riguarda il mare cioè tutti questi colori fanno venire voglia di mare ciao sed amore mio un bacio grande soprattutto sono utilissimi da portare al mare quindi ragazzi vi do un bacio grandissimo stiamo per arrivare ai 4000 quello al cocco sì lady è bellissimo anche per il colore è quello che ho messo per l'appunto nel suo porta gel il porta gel che vi viene regalato ciao cri che vi viene regalato se per l'appunto comprate le 8 confezioni da 22 euro poi potete anche comprarli singolarmente ragazzi al prezzo di 2 euro e 90 credo comunque c'è scritto tutto sul sito nell'info box ragazzi trovate veramente tutte le informazioni oltre che naturalmente tutti i riferimenti per rimanere in contatto con me a partire da instagram dove mi trovate con il re del tubo poi la fan page il re del tubo su facebook ragazzi iscrivetevi anche lì e iscrivetevi al gruppo sosteniamo il re del tubo naturalmente poi come vi ho già detto troverete tutti i link per quanto concerne questa favolosa azienda come vi dicevo stiamo andando verso i 4000 ormai mancano circa 30 iscritti stiamo per arrivare 4000 fra poco ci sarà in live un room tour speciale con ospiti speciali quindi ragazzi e ragazze stay tuned perché veramente sta per arrivare qualcosa di super puccioso che so che vi piacerà tantissimo e in più per la prima volta farò vedere la mia cameretta per intero qualche pezzo o quantomeno il colore arancione che è caratteristico della mia cameretta l'avete visto per chi mi segue dai primi video ciao grazie amore mio buon lavoro però vedrete tutta per intero la stanza del re del tubo la room del re del tubo con degli ospiti a sorpresa voi mi direte come degli ospiti vedrete ospiti che conoscete benissimo anche voi e che hanno fatto in qualche modo parte diciamo di questa bellissima estate 2018 no è uno sfondo fotografico laura adesso peraltro come inizieremo ad arrivare a fine settembre cambierà anche lui perché da così colorato come lo vedete per l'estate ci sarà un altro nuraghe come lo chiamo io laura perché diciamo è una si patrizia ritengo in camera e riterrò in camera per un sacco di tempo poi come vedrete capirete quindi mi raccomando ragazzi ci sarà per quanto riguarda il prossimo video il primo room tour del re del tubo con ospiti in proprio all'interno tenere in camera esatto sed con ospiti speciali e pucciosissimi quindi ragazzi mi raccomando vi aspetto vi mando un bacio grande vi ringrazio per tutto l'affetto che mi date grazie anche alle persone che continuano a sparlare alle persone che continuano a rompere l'anima perché anche voi fate parte di questo circo quindi ragazzi un bacio a tutti vi voglio un grandissimo e un grandissimo e un grandissimo bene vi abbraccio tanto e mi raccomando come dico sempre non ci vediamo presto ma prestissimo ciao ragazzi ciao ciao Grazie a tutti.